Mi dici, modifico il posto, mi dici dopo il Paradise City cosa c'è? Mi dici, modifico il posto, mi dici, modifico il posto, mi dici, modifico il posto. E' Menzana-Siena 1871, partita chiave per i ragazzi di Cosmo Nacelli che è l'ultima partita casalinga di questa fase con aperte ancora le speranze di passare il turno. Intanto Palmerini aggredisce subito il ferro e mette subito al segno i primi due punti della partita. Intanto Siena risponde con una circolazione rapida, con una tripla aperta dall'angolo che non va allo stesso Palmerini. In arresto e tiro dopo la conduzione, tabellone, ferro, la palla esce. Il rimbalzo per Siena. Fallo di Palmerini sul gioco in post basso. Pressing alto subito della liomatica, raddoppiare, esce bene Siena. Qualche problema di controllo del corpo, ancora Tognazzi dalla lunga distanza, cortissimo. Providenza guida la transizione, fino in fondo, appoggia al vetro, due punti. 4-1 gli Omatic. Fallo di Providenza. Dopo il 2-2 riprende. L'azione d'attacco per la liomatica con Guido Providenza. Aspetta l'uscita di Cioffetta, pick and roll con Antonielli. Providenza ancora attaccare con la sua mano sinistra. Crossover, arresto e tiro di Lunetta. Non va il tiro, bellissima la conclusione. Marchio di fabbrica di Guido. Intanto Siena riparte. con il numero 9 del Cucina che subisce il fallo. Sia! 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 Grazie a tutti. 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 Il posto è condiviso da Matteo Marcella, l'ultimo posto è il mio, va chiesa. Che c'è scritto? Quella la, quella la, quella la, condividi, trova il tuo tasto condividi. Vedi se c'è la pagina per Lugia Basket, se riesci a condividerlo sulla pagina per Lugia Basket. Che ti dà secondo me? Di una pagina, no? No, di una pagina, non di un amico, non c'è? Tu la pagina ti chiesci, bravo. Perugia Basket, vai. A posto, grazie, grazie. Torniamo in telecronica dopo qualche problema tecnico risolto con... La bomba di Elia Savoia che riavvicina la Liomatic Perugia, la menzana Sena. Il protegge è 15-10 per i senesi che ora attaccano ancora il ferro con il numero 10 Tognazzi che guadagna ancora un fallo. Una menzana che ha un chiaro obiettivo di correre a tutto campo e non far schierare la difesa di Liomatic. Cortissimo il primo libero di Tognazzi, si rimane sul 15-10. Uno su due per la guardia senese. Ciofetta a lavorare in palleggio. Si va da Palmerini, in punta. Si appoggia su Guido Providenza che attacca ancora con la mano sinistra. Difficile questo tiro, grande l'aiuto di Furfaro. è ancora campo aperto per lo sfondamento commesso dal numero 9 del Cucina su Palmerini. Possesso in zona d'attacco per la Liomatic che è consegnato per Savoia in punta da Cervini. Palmerini molto attivo in questo inizio di gara. Ancora Guido, anche lui pronto ad attaccare subito e a prendere il fallo del numero 11 Manganelli. Si riprende con una rimessa laterale di Liomatic Perugia. Ciofetta gioca un pick and roll con Cervini, attacca il centro con la mano destra. Lì a Savoia, riapre ancora un arresto e tiro complesso dall'aria. Ma Cervini controlla il rimbalzo in attacco, riapre per la tripla di Ciofetta. Ancora Cervini a lottare il rimbalzo, ne esce però Tognazzi che guida ancora la transizione. Vediamo come tirano spesso nei primissimi secondi dell'azione. Grandissima apertura di Savoia per Palmerini che però si fa stoppare dal numero 14 Furfaro che subisce. Prende il fallo di Elia Savoia. Bonus peso, due tiri liberi per Benzana Siena esce. Palmerini al suo posto Lorenzo Righetti, due tiri liberi per Daniele Furfaro. Non va il primo. 0 su 2 per Furfaro. Ciofetta a spingere la transizione Leumatic. Un po' segnato ancora con Lorenzo Righetti, Cervini, D'Alie Savoia. Guido Providenza dal palleggio, ancora il crossover, ancora il reset tiro ma ancora l'errore di Guido. Si rimane sul punteggio di 16 a 10. Vediamo come Siena attaccherà questa difesa schierata. Ancora con Tognazzi in uno contro uno e di energia con arresto e tiro dal cuore dell'aria. Più otto, Benzana Siena. Poco ritmo ancora nell'attacco Leumatic e tanto Guido Providenza completamente abbandonato per prendere il fallo di Niccolò Bruttini. Intanto si appresta sul cubo del cambio Berretta a rilevare Andrea Ciofetta. Grazie. 0 su 2 di Guido Providenza però Lorenzo Righetti fa la voce grossa a rimbalzo costringe Broschenko a non controllare il pallone sarà quindi rimessa in zona d'attacco gli Omatic Iliasa Voia dopo il blocco cerco su Cervini si va da Lorenzo Righetti per retta appena entrato attacca subito il centro trova un passaggio immaginifico Cervini con un po' di problemi nel controllo del pallone la palla va in mano alle maglie verdi della menzana siena che attaccano ancora nei primissimi secondi dell'azione trovano due punti proprio con Broschenko Guido Providenza ancora con tanto spazio la tripla al segno di Guido ci avvicina a meno 7 2 minuti e 16 alla fine del primo quarto di gioco ancora Tognazzi sempre molto attivo fino in fondo con molta energia con poco costrutto il passaggio a una mano baseball di Providenza diventa una palla persa ancora Siena ad attaccare subito nei primissimi secondi Broschenko ancora rimbalzo scordinato il suo tiro per retta campo aperto siamo 4 contro 2 difficoltà a rientrare per la menzana spazzature però rivedibili della Leomatic un Guido Providenza che ora si mette in proprio attacca ancora il numero 14 Furfaro a guadagnare il fallo che lo porterà in lunetta per due tiri liberi intanto pronto ad entrare sul cubo dei cambi Cipriani a rilevare Cervini in un quintetto che era molto piccolo per il coach Monacelli ora la presenza di Luca ci garantirà soprattutto fisicità al rimbalzo con un po' di fortuna assegno il primo tiro libero di Guido Providenza 2 su 2 su Guido e siamo meno 5 20 a 15 1 minuto e 38 alla fine del primo quarto di gioco ancora Tognazzi a prendere tanta responsabilità nell'attacco senese del Cucina con un'esitazione blocco picco il roll di Pagano il pallone che alla fine in qualche modo viene toccato dalla difesa di Omatic 3 secondi alla fine dei 24 secondi un tiro rapido le Matic fanno un'ottima difesa Luca Cipriani che costringe a un tiraccio apriamo il campo in contropiede Guido ha qualche problema nel controllo della palla e ci divoriamo quindi il contropiede tanto sulla ripartenza palla accompagnata del Cucina ci va bene in questa occasione intanto entra il numero 5 Mucci per Furfaro picco il roll di Lorenzo Righetti con con Cipriani cambio accettato la difesa si va da Providenza e con un bellissimo movimento prova a appoggiarsi al vetro tanto Cipriani fa la voce grossa con i suoi centimetri a rimbalzo guadagna un fallo che lo porterà in lunetta per due tiri liberi a 46 secondi alla fine del primo quarto 0 su 2 ancora dalla lunetta per la Gliomatic intanto Siena riparte con il numero 22 Pagano facciamo il picco e il roll con Broschenko ancora in post basso difesa molto adeguata Lorenzo Righetti di mestiere a rimbalzo Elia Savoia subito a mettere la palla a terra specialità della casa un tiro alla Savoia se ce n'è uno ci porta a un possesso pieno di svantaggio tanto fallo in attacco il Del Cucina che abusa di questi blocchi a metà campo molto pericolosi giusto a mio avviso il fallo sanzionato tanto proprio Del Cucina esce lascia il posto a Furfaro abbiamo la possibilità di andare fino in fondo facendo l'ultimo tiro del quarto 12 secondi transizione adesso ne abbiamo qualche problema di controllo del pallone Berretta in ala fallo subito da Berretta sanguinoso questo fallo con il bonus speso da Siena ci porterà in lunetta per arrivare addirittura almeno uno dopo un inizio molto difficoltoso a segno il primo libero di Berretta non va il secondo ma Lorenzo Righetti con questo rimbalzo poi forse non si rende conto del tempo che mancava esce fuori spara una tripla con l'uomo in faccia finisce il primo quarto di gioco Leo Matic 18 Benzana Siena 20 tutto pronto per il secondo quarto di gioco Quintetti Campo Berretta Savoia Righetti Providenza Cipriani per la Leo Matic per Siena numero 22 che ora arriva fino al ferro Pagano numero 8 Broschenko numero 14 Furfaro il numero 5 Mucci e il numero 10 Tognazzi il capitano sicuramente l'uomo più attivo della squadra di coach Vezosi che nel primo tempo dopo un inizio molto arrembante dopo ha pagato un po' il ritorno della Leo Matic che ora è sotto di due palla in mano grandissima palla di Berretta il pick and roll con Luca Cipriani splendida palla di sinistra di Filippo che ora lavora in difesa sul Pagano tanto spazio per lui sul pick and roll rinuncia va da Tognazzi che mette il piede fuori dal linea di fondo sarà ancora rimessa per Leo Matic cambio per coach Vezosi una vista e tante fuori Tognazzi dentro Paolo Mangarelli cambi sistematici del Menzana Siena che hanno causato un po' di imbarazzo nel primo minuto di gioco ora riusciamo però a controllare meglio le operazioni soprattutto a controllare anche i rimbalzi con l'ingresso di Luca Cipriani Canestro da due punti per Broschenko rilegala di nuovo il più due intanto ancora solito movimento di Elia Savoia per il pareggio ci esponiamo ancora alla transizione ospita grande difesa dello stesso Elia Savoia che mette il corpo ritmi frenetici in questa fase di gioco non dobbiamo secondo me poi andare dietro al ritmo di Siena che fa di questo il suo marchio di fabbrica del Corriettira più due ancora Menzana Providenza a prendere l'ennesimo fallo lo porterà in Lunetta per due tiri liberi sul 24-22 ospite pronto intanto a rientrare sul cubo dei cambi Giovanni Cervini presumibilmente entrare proprio per il tiratore Guido assegno il primo libero di Providenza 2 su 2 per Guido che lascia il posto a Giovanni Cervini Providenza molto molto attivo in questo primo quarto e mezzo di gioco prendendosi tante responsabilità e sbagliando anche qualcosina ma sempre presente nella partita difesa allungata raddoppio di Righetti e Berretta esce bene Siena Cervini non ha posizione secondo l'arbitro fallo su Daniele Furfaro rimessa dal fondo per Menzana Siena un po' di confusione esce Broschenko Furfaro a lavorare dal palleggio rischia il fallo Berretta chiuso la linea di penetrazione da Cipriani il tiraccio il numero 11 Mangarelli 24 secondi scaduti per Siena all'ennesima palla recuperata dall'Aliumatic che andrà in zona d'attacco per il sorpasso dopo tanto di seguire Berretta sempre positivo le sue prestazioni da un po' a questa parte con autorità ora dà un pallone rischioso per Elia Savoia che con un bel sottomano però non riesce a concretizzare il vantaggio Furfaro dentro con tutta l'energia del mondo fallo di Luca Cipriani porterà in lunetta la guardia senese intanto avvicendamento nel comparto lunghi rientra Antonielli fuori Luca Cipriani in panchina anche Vito Saccomandi vista l'indisponibilità di Edoardo Moretti a letto con la febbre 2 su 2 per Furfaro ancora più 2 Menzana Siena ancora i cambi sistematici di coach Vezzosi Berretta ancora con un'iniziativa di energia lo porterà in lunetta per due tiri liberi non va il primo libero di Filippo 1 su 2 Egliomatica ancora meno 1 Furfaro lavora dal palleggio piccherolli in transizione bruttissima gestione del pallone di di Furfaro una squadra che fa della corsa dell'agonismo la sua ma che fa per non certo il talento e la gestione del pallone intanto rientra Cioffetta giochiamo con i due playmaker in questo frangente abbassiamo un po' il quintetto loro sono molto piccoli Berretta a portare avanti il pallone Elia Savoia prende la linea di fondo esita riparte poggia il vetro non va ancora Siena che prova a spingere sull'acceleratore Mucci vedere il fallo che prima dell'azione di tiro per cui si riprenderà con una rimessa laterale per Benzana Siena Broschenko a lottare sul rimbalzo offensivo Monella troppo le braccia Luca Antonielli anche se aveva preso tanto cuoio ma il movimento era fuori dal suo cilindro per cui Broschenko Broschenko da Cervini il giovane il giovane senese non bellissimo alla sua caduta con tutto il peso del corpo sulla gamba sinistra l'uomo 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 Grazie. Tanto i compagni lo rialzano, portano a bordo campo, si spera davvero che non sia nulla di grave per il giovanissimo Matteo Pagano, classe 1998. Si riprende a giocare dopo questo brutto infortunio che si spera possa risolvere al più presto. Per Matteo Pagano, intanto in campo per Agliomatic c'è di nuovo Palmerini. Francesco Antonielli dal media distanza realizza il 27 pari. Ancora Siena con un po' di confusione in zona d'attacco, isolamento per Mucci che colpisce il palo. Palmerini può ripartire, è un 3 contro 2 agevole, dobbiamo concretizzare queste ripartenze. Così facciamo con uno splendido arcobaleno con la mano debole di Andrea Ciofetta. Finalmente andiamo sul più due. Vediamo se Mucci prova subito a ristabile le gerarchie. Non ci riesce, intanto possiamo allungare Berretta, ancora con la mano sinistra. Infrazione di piede si ripartirà con... Messa in zona d'attacco, Leomatico, 19 secondi sul cronometro 24. Doppio cambio per coach Vezosi. Entrano numero 9 del Cuscina. Niccolò Bruttini, posto di Furfaro e di Mucci. Palmerini incaricato della rimessa a fondo. Berretta con spazio, non guarda neanche il ferro. Pick and roll, Ciofetta, Antonielli. Cambio accettato alla difesa ospite. Ripartenza, riapertura per Giovanni Cervini. Tiro con parabola. Sfortunata la conclusione dell'ala perugina. Ancora con Siena che corre. E non vuol sapere di ragionare. Anche perché quando l'ha fatto i risultati sono stati veramente mediocri. Tanto Palmerini a guadagnare un fallo. Che è soltanto il terzo però di squadra per Menzana-Siena. 4-24, anzi il quarto fallo di squadra. 4-24. Al termine del secondo quarto rigioco. Perretta. 5-24. Perretta. 5-24. Perretta. con un po' di patema d'animo di Francesco Antonielli. A lungo, mini a lungo, Leomatic. 31-27. Tognazzi. Cortissimo. Si riparte ancora in transizione con Ciofetta. Vediamo se... Prende il tiro. E così è. È da due. Pesta la linea. Ma va bene lo stesso perché... regala il massimo vantaggio di giornata per Agliomatic sul punteggio di 33-27. Time out in campo per Coach Vezosi. Grazie. 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 Si rientra in campo dopo il time out emozionale di coach Vezosi che prova a strigliare i suoi Leumatic con una difesa ancora molto alta, rubiamo subito un pallone, non è servito a molto Il time out di coach Vezosi, i suoi rientrano un po' distratti anche se Antonielli si fa stoppare il tiro con un evidente vantaggio La del Cucina, Tattomucci per Tognazzi, Piccarola ad aprire, gestione perfetta del corpo di Tognazzi Che realizza il meno 4 ospite intanto Verretta per Palmerini, gestione in punta di Cervini ancora per Palmerini Palla sotto per Antonielli, ricacciata fuori per Palmerini, brutto il suo tiro da 3 punti Sena può ancora riavvicinarsi quando mancano 3 minuti scarse alla fine del secondo quarto di gioco Tognazzi ancora molto attivo nell'attacco senese Il pallo subito da Giorgio Mucci, lo porterà in lunetta con due tiri liberi Pronto sul cubo dei cambi, Guido Providenza Vediamo staffetta con Giovanni Cervini Time out anche per Coach Bonacelli sul punteggio di Liomatic 33, Benzana 29 Grazie 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 Si riprende a giocare con i due tiri liberi di Giorgio Mucci, il primo è corto sul primo ferro uno su due per Mucci meno tre per Menzana Siena Soffetta lavora in palleggio rispetto all'uscita di Berretta picca e roll con Francesco Antonielli che prova a prendere posizione spazzatura di Providenza non bellissima bellissimo la collaborazione con Berretta però gli sfugge il pallone ancora Mucci con tanto spazio mette la bomba nel pareggio Giorgio Mucci prova a rispondergli dall'altra parte Soffetta la palla che rimbalza e preda però poi del rimbalzo di Antonielli ancora si va sotto di Antonielli abbiamo un chiaro mismatch ancora l'iniziativa di Berretta che dà una palla al bacio schiacciata per terra nel cuore dell'aria ancora per Francesco Antonielli che deve ringraziare e mettere a segno i primi due punti due punti per Leomatic Guido Providenza in angolo fa saltare il suo diretto avversario poi riapre per Cioffetta ancora Luca che però espone troppo il pallone si prende un'altra stoppata Nalucco in angolo di Bruttini per il tiro che non va di Tognazzi no scusate di Mangarelli la tripla invece a segno è quella di Guido Providenza che riallunga per la Leomatic Perugia 38-33 il punteggio entriamo nell'ultimo minuto di gioco in questo istante del secondo quarto ancora il cattiva posizione di Francesco Antonielli che attacca male lo spazio di penetrazione mettendo fallo intanto Lorenzo Righetti è pronto a sostituire un super Filippo Berretta che viene da un periodo magico in cui è veramente tanto produttivo soprattutto in fase di assistenza per i compagni tanto Mangarelli dalla lunetta assegno il primo libero uno su due problemi nel controllo del pallone diventava un tocco bruttini a suo favore vediamo se l'arbitro corregge la sua decisione aiutato dall'altro arbitro si riprenderà quindi con una rimessa in attacco per la menzana ancora con Tognaz attaccare il cuore dell'aria Luca Cipriani in qualche modo a contrarre rimbalzo apertura per Ciofetta spinge il pallone per Guido Providenza nell'ennesimo movimento in dopo il crossover il resto è tiro però questa sera non ne vuole sapere rientrare intanto Manganelli spinge fortissimo ripreso un po' il copione del primo quarto di gioco soprattutto ai primi minuti quando Siena era brava a spingere il contropiede anche da una situazione di rimbalzo ancora Guido Providenza guadagnarsi due gite in lunetta buono il primo 2 su 2 per Providenza time out per Coach Svezzosi 20 secondi alla fine di questa di questo secondo quarto di gioco il putteggio è Liomati 40 Benzana Siena 36 Svezzosi 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 si riparte con presumibilmente l'ultimo possesso di questo primo tempo di gioco tra Liomatic e Menzana Siena 10 secondi alla fine Mangarelli a gestire ora si affida a Tognazzi ancora Mangarelli sulla zona difensiva della Liomatico stringiamo a un bruttissimo tiro il rimbalzo è controllato da Mucci ma il suo tiro della disperazione non va chiude il primo tempo di gioco ultima partita in casa per i ragazzi di Coach Monacelli che poi avranno la probabilitiva trasferta della Stella Azzur per chiudere il girone e sperare nel passaggio del turno Quintetti in campo per la Liomatic Ciofetta Palmerini Cipriani Righetti e Providenza per Siena invece Mucci Del Cucina Tognazzi numero 15 Bruttini e il numero 11 Manganelli prima conclusione che non va a buon fine per la Liomatic spaziature orribili per Siena che poi con Del Cucina si addormenta e Righetti va vicinissimo al recupero però la palla esce fuori rimessa in zona d'attacco per Siena con Manganelli ancora una conclusione scriteriata con i ragazzi Sienesi che non tornano nemmeno Righetti in campo aperto subisce il fallo che lo porterà in lunetta per due tiri liberi uno su due per Lorenzo Righetti Liomatica più cinque in questo avvio di ripresa Tognazzi vediamo se attacca subito il ferro una meccanica di tiro un po' lenta sui tre punti intanto Mucci va a vuoto Providenza tanto spazio per Palmerini tiro che non va stesso Palmerini commette fallo e blocca la ripartenza di Del Cucina Tognazzi si appresta batte la rimessa laterale gioco insegnato per Del Cucina che attacca dal post alto Luca Cipriani commette fallo Del Cucina avrà due tiri liberi assegno il primo due su due per Del Cucina Lenzana un possesso pieno di svantaggio transizione chiamato da Ciofetta Palmerini rivaltare per lo stesso Andrea Ciofetta si va da Guido Providenza con un crossover splendido manda al bar il suo diretto avversario dà una palla splendida per Cipriani che con qualche difficoltà appoggia il vetro il più 5 Leomatic ancora Del Cucina a lavorare dal post alto riapre per Mucci Giovalferro affretta la conclusione che non va Ciofetta a spingere per Providenza in ritmo lavorare dal palleggio ribaltamento per Righetti Palmerini si va ancora dentro da Cipriani con tanta energia forse fallo non fischiato a Del Cucina Cipriani recupera subito la postazione difensiva Mucci una mezza idea di tirare che non diventa intera Del Cucina con tanto spazio Ferro gli dice di no Lorenzo Righetti a rimbalzo Ciofetta una bellissima palla per Palmerini che però un po' incerto usa la mano destra e sbaglia contropiede ancora spaziature rivedibili di Siena Coramucci a trovare il tiro da lunga distanza che non va leziosismo di Ciofetta intanto Providenza alza un tiro un po' difficile dall'altra parte Del Cucina non concretizza una facile conclusione di uno contro zero Lorenzo Righetti esce con la palla in mano e subisce il fallo strigliata di Coach Monacelli al suo plemaker Andrea Ciofetta per la gestione del pallone di prima un po' lezioso Diomatico in zona d'attacco sul più 5 43-38 il punteggio con 7 minuti scarsi da giocare in questo terzo quarto di gioco Ciofetta con una magia in penetrazione dopo l'esitation appoggia in mano Mancina e realizza subisce anche il fallo che lo porterà in lunetta per il libero supplementare rientra di Savoia per Palmerini Gioco da 3 punti completato per Andrea Ciofetta ci regala il massimo vantaggio di giornata sul più 8 Fulfaro vedere Cucina ancora tanto spazio gli concede Cipriani Mucci ancora col suo solito uno contro uno a uscire affrettando il tiro di mano destra che non va bellissimo il pallone per Lorenzo Righetti che subisce anche lui il fallo realizza i due punti e andrà in lunetta con il libero supplementare doppia cifra di vantaggio per la Leomatic dopo 4 minuti del terzo quarto di gioco doppio cambio per Coach Vezzosi dentro Tognazzi e Broschenko libero giuntivo in arrivo per Righetti che come Ciofetta in precedenza completa il gioco da 3 punti Leomatic vola sul più 11 in pieno controllo del match fallo di Luca Cipriani trattiene Broschenko nel tentativo di prendere posizione nel cuore dell'aria si ripende con una rimessa in zona d'attacco per Menzana ancora Tognazzi Abile in questi arresti nel cuore dell'aria il tiro non va il rimbalzo controllato ancora da Siena Furfaro a inventare per Broschenko che le avvicina ai suoi almeno 9 Providenza vediamo se attacca Broschenko ancora il suo movimento che oggi però non vuole saperne rientrare attenzione perché Siena riparte subito molto aggressiva sulla transizione però infrazione di passi fischiata del Cucina un po' dubbia forse providenza giocare dal post basso a attaccare del Cucina non realizza e commette il fallo sul rimbalzo offensivo si riprenderà con Siena in zona d'attacco con Tognazzi per del Cucina che come al solito riceve in in punta questa volta fuori da linea di tre punti ancora Tognazzi continua con un palleggio insistito a attaccare la difesa Ariomatic subisce fallo bonus per Ariomatic due liberi in arrivo per Vittorio Tognazzi 2 su 2 per Tognazzi riavvicina i suoi almeno 7 transizione per Gliomatic Lorenzo Righetti a ribaltare per Cioffetta prova ad attaccare un step back meraviglioso Andrea Cioffetta che ha iniziato questo quarto in maniera veramente molto produttiva per per la sua squadra punendo il cambio sistematico del mensana Broschenko con un tiro da 3 punti che li lasciamo tutta la vita Providenza a spingere siamo 3 contro 3 si arresta e tira da 3 punti si sente il ritmo anche se in questa il terzo quarto non ha ancora realizzato il tiro da 2 dall'angolo del Cucina che non va ancora Providenza ora abbiamo un 3 contro 1 dobbiamo sfruttarlo no look per Lorenzo Righetti rinunciamo siamo un po' leziosi in questa fase ancora Providenza attaccare il ferro non assorbe il contatto di Tognazzi e ci esponiamo ancora a transizione di Siena che realizza da sotto con del Cucina siamo in questa fase un po' troppo leziosi in queste transizioni sia offensive che pecchiamo anche nel rientro difensivo Marchio di Fabrica della squadra di Coach Fezzosi ancora Ciofetta on fire bomba che ci regala di nuovo il più 10 prova a spingere ancora Siena Guido Providenza fa buona guardia ancora abbiamo un 4 contro 2 Lorenzo Righetti forse sceglie il tiro peggiore che potesse scegliere il tiro più difficile squadre che nel calcio si direbbero allungate prova a ragionare su saggiamente Andrea Ciofetta con 3 minuti scarsi sulla fine del terzo periodo di gioco Savoia ancora i cambi sistematici della mensana rallentano un po' il ritmo del nostro attacco ancora Ciofetta vediamo se mette anche questa no lungo il suo tiro ancora una palla buttata da Paolo Manganelli ma non concretizziamo coach Macelli chiama time out Luca Cipriani commette fallo sull'ennesima singarata di Paolo Manganelli triplice cambio anche in vista per un inviavolato Luca Monascelli giustamente abbiamo sprecato tantissimo in questo quarto di gioco siamo ancora più dieci ma partita ancora tanto lunga Siena ha un cuore enorme e con il suo stile di gioco può rientrare in qualsiasi momento visto la sua propensione a tirare nei primissimi minuti dell'azione intanto salutiamo l'illustre parterre del Palafoccia in preziosito la presenza di Monascelli Mariani dal storico dirigente Sabatini e dalla bellissima coach Roberta Corbucci si riprende a giocare con Del Cucina in lunetta per due tiri liberi vediamo che effetto avrà avuto il time out sicuramente emotivo di Cosimo Macele che ha richiamato i suoi a una gestione più concreta di queste transizioni offensive Del Cucina fa uno su due però si va a prendere il suo rimbalzo e appoggia al vetro il meno sette Benzana transizione ancora Berretta che è entrato in campo con Francesco Antonielli e Giovanni Cervini troppo Antonielli con qualche problema riesce a ribaltare il tiro Longzù di Elia Savoia parte sempre a mille Siena in queste ripartenze molto attivi ora ad attaccare il ferro picca e roll per Tognazzi riapre per Mucci che però commette infrazione di passi palla persa Menzana che rimette in campo il numero 15 Bruttini posto di un positivo del Cuscina stanco evidentemente Coach Fezzosi vuole dare minuti di riposo al numero 9 Elia Savoia intanto ancora a volare nel cuore dell'area appoggiare il più 9 Liomatic forza di ruota russa intanto per per gli ospiti tripla aperta di Manganelli pessime percentuali dall'arco per per Siena Ciofetta al contrario ogni volta che alza la mano questa sera fa canestro soprattutto in questo secondo tempo più 12 e massimo vantaggio per per Agliomati che dopo un periodo di appanamento ha ripreso un po' le redini della contesa anche se ora Mucci attacca il ferro e subisce il fallo uno su due per Mucci ma come in occasione precedente subiamo il rimbalzo offensivo questa volta da Broschenko che guadagna un altro fallo che porterà ancora in lunetta per due tiri liberi dobbiamo controllare meglio questo fondamentale dettaglio fuori soprattutto sul tiro libero che ci sta penalizzando in questo finale di terzo quarto Broschenko corto il primo sbaglia anche il secondo C va bene così Ria Savoia prova ad alzare il ritmo ancora Berretta Ciofetta Cervini prova a dare palla in post basso a Francesco Antonielli Ria Savoia forzare un po' Ciofetta splendido per Francesco Antonielli ancora una iniziativa molto positiva di Andrea Ciofetta Monacelli ordina una difesa zona 2-3 concediamo una tripla aperta da molto lontano a Mangarelli non va allo scadere fuori tempo massimo la preghiera di Elia Savoia si chiude qua il terzo quarto di gioco Gliomatic 61 Menzana Siena 48 ultimo quarto di gioco in arrivo al palafocciato tra Leomatic Perugia e Menzana Siena campionato di DNG Siena che manovra il primo pallone in attacco sul meno 13 Leomatic in difesa tanto spazio per Tognazzi che ancora una volta dimostrano che in questo fondamentale oggi non ce n'è tanto Elia Savoia ancora a rappoggiare un sottomano dall'altra parte del ferro più 15 massimo vantaggio per la Leomatic fallo in attacco fischiato al numero 8 Broschenko Siena che si limita a queste iniziative dei suoi esterni che continuamente provano ad attaccare il ferro senza un grande gioco corale vediamo se ora Cocezzo sordina una difesa zona così è 2-3 fronte pari muoviamo benissimo il pallone con Ciofetta che però rinuncia al tiro Elia Savoia attacca ancora la linea di fondo al resto è tiro molto difficile vola Giovanni Cervini a rimbalzo però non controlla il pallone né lui né Francesco Antonielli rimessa menzana Siena fallo conquistato da Andrea del Cucina non buono il canestro si rimetterà con rimessa in zona d'attacco Siena pronto a rientrare Guido Providenza esce Francesco Antonielli gravato di 4 falli abbassa il quintetto Coce Monacelli adeguandosi di fatto 5 uomini in campo per Vezosi che di lunghi non ne ha neanche l'ombra continuo a prendere la scarica di Siena che libera poi la conclusione da 3 punti che ancora una volta non va a segno Ciofetta forse potrà servire Providenza il quale prende il rimbalzo fallosa la stoppata della difesa sienese Providenza andrà in lunetta per incrementare ancora il vantaggio primo libero a segno ha aggiornato il massimo vantaggio sul più 16 lungo sul secondo ferro il secondo tiro libero di Guido Providenza Tognazzi a spingere tanto spazio per Niccolò Bruttini che mette a segno una tripla importante che dà ancora ossigeno agli uomini di Coccio e Sossi schierate ancora zona 2-3 Cervini a ribaltare per Providenza tanto spazio per Guido non perdona l'ala Perugina sul splendido ribaltamento di Cervini risponde quindi subito a Bruttini che ci riprova in un contesto a tre punti tra lui e Guido non va del Cucina pronto ad attaccare come al solito dalla punta si appoggia tantissimo usando il fisico Canestro del meno 14 ospite tanto con la difesa zona per Siena Cervini in posizione di mezzo angolo Providenza in arresto e tiro e finalmente trova la conclusione anche in questo fondamentale che è il suo marchio di fabbrica Tognazia ad abusare del palleggio dentro l'aria finalmente riusciamo a metterci la mano Guido Providenza ad appoggiare un facile contropiede del più 18 Leomatic time out chiamato da Umberto Vezzosi Leomatic che prova ad assestare forse il colpo decisivo ancora la partita è molto lunga 7 minuti alla fine dell'incontro 7-1-5-3 Leomatic in pieno controllo sia difensivo che offensivo del match la zona di coach Vezzosi non ha pagato dividendi con Leomatic che questa sera muove molto bene il pallone abbiamo avuto qualche piccola defaianza su alcune conclusioni in transizione in superiorità numerica ma parte quello partita molto bella giocata dai ragazzi di coach Bonacelli che c'è che c'è che c'è che c'è di Si riprende a giocare con la menzana in zona d'attacco, in campo il numero 5 Mucci, ancora attacco molto asettico per la menzana che è una serie di uno contro uno di fila all'altro, soltanto Mangarelli cancella Ciofetta del Cucina, vicinissimo all'infrazione di passi, tanto Elia Savoia è tentativo di anticipare Furfaro, commette infrazione di fallo, spinta ai danni di Furfaro, terzo fallo per Elia Savoia. Caccia un shoot di Manganelli che però non va il ribalzo, non riusciamo a controllarlo per cui c'era ancora una rimessa in zona d'attacco per la menzana. Prova disparitamente a rimanere attaccata a questa partita Furfaro, impaleggere se il tiro dall'angolo contro Elia Savoia, grandissimo canestro di Daniele Furfaro. Torna difesa individuale, la menzana, provvidenza a creare dall'angolo per Giovanni Cervini, ripartenza Fulminia come al solito della menzana, Mucci attacca la linea di fondo questa volta. Poggia al vetro, vieni parziale di 4-0 per la menzana dopo un'uscita dal time out per coach Vezosi. Cervini, non tanto spazio, preferisce riaprire Aguillo Provvidenza, forse poteva trovare una conclusione da sotto. Così non è il tiro di provvidenza, non va e la menzana ha l'opportunità di riavvicinarsi pericolosamente, Mucci da tre punti, senza ritmo e senza senso. Ci va benissimo così, c'ho fetta. Giocolatto chiamato per l'uscita di Berretta, blocco, Glieri Savoia che poi sfrutta quello di Cervini, appoggia una conclusione che oggi ha segnato ad occhi chiusi, questa volta non la mette, passi, chischiati. A Nicola Bruttini, cambio in casa Leomatic, esce un più che positivo, Elia Savoia rientra al suo posto, Lorenzo Righetti. Provvidenza, con tanto spazio, prende un'altra conclusione, ora sta sporcando molto le sue percentuali Guido. Non dobbiamo commettere comunque l'errore di affrettare ora le conclusioni, visto anche il vantaggio e vista la propensione di Siena a cercare Canestro nei primi secondi. Come in questo caso, ancora del Cuscina, Guido ancora un errore, gli scappa il pallone dalle mani, Lorenzo Righetti a controvizzare il rimbalzo offensivo, Ciofetta ancora a lavorare dal palleggio, ubriacante le sue finte, appoggia di mano destra uno splendido Canestro. Per l'NVP finora dell'incontro, intanto Mucci con una bellissima finta, riconsegnato e ripartenza, trova impreparata la difesa Leomatic, appoggia subito di nuovo il meno 14. Quattro minuti alla fine dell'incontro. Ancora bloccare il bloccante per Lorenzo Righetti, che finte attiva da tre punti, l'uscita di Furfaro è quantomeno riveribile, appoggia al vetro Lorenzo. Un facile canestro per di nuovo il più 16 Leomatic. Intanto, bruttina ad attaccare con energia, non va la sua conclusione dopo il giro in palleggio, noi sprechiamo un'altra transizione, blocchiamo la transizione invece ospite, con un fallo di Ciofetta. Non siamo in bonus, buon fallo speso da Andrea. Intanto, lo stesso Ciofetta, applauditissimo dal pubblico del Palafoccià, lascia il posto ad Alessio Palmerini. Ancora l'uno contro uno, Senese, in questo caso con Furfaro, molto molto aggressiva ad attaccare il ferro. Gli uomini di coach Rezzossi, meno 14, tre minuti alla fine dell'incontro. Dobbiamo sicuramente ritrovare un po' di continuità in attacco. Intanto, Berretta, dentro con la mano sinistra, sua amata mano sinistra, anche se destro. Mucci a guadagnare un altro fallo, che lo porterà in lunetta per due triliberi che potrebbero riavvicinare pericolosamente la menzana. Intanto, coach Monacelli ordina un cambio, rialza il quintetto, riventendo Cipriani per Giovanni Servini. Cortissimo il primo tiro libero di Mucci. 0 su 2, sanguinoso per Mucci. E per le velletà di rimonta dei suoi tematici che andrà con questo possesso d'attacco che si è messo a segno. Potrebbe chiudere definitivamente il match. Providenza a sbagliare, ma a conclusare il suo rimbalzo d'attacco. Palmerini ha una cattiva ricezione sul ribaltamento di Lorenzo Righetti. Siena ancora viva. Mucci da tre punti, questa volta realizza. Meno 11. Siena. Berretta. Difesa molto alta ora per coach Vezosi. Cipriani con tanta energia. Palmerini scarico per stesso Cipriani che però non controlla il pallone. La palla carambola sulle mani di Palmerini. Prova la conclusione da sotto. Non va, intanto commettiamo un'ingenuità incredibile regalando un fallo a metà campo. Che è anche il quinto. Per Luca Cipriani. Due tiri liberi per l'arrivo per Furfaro che potrebbero riavvicinare sotto la doppia cifra di svantaggio la Menzana Siena. Un minuto e 48 secondi alla fine. Non è finita, è molto lunga. Realizza il primo tiro libero Furfaro. Meno 10. Due su due, meno 9. Menzana che continua con la sua zone press molto alta. Vediamo come ne usciamo. Perdiamo qualche secondo ma ne usciamo molto bene. Antonielli con una splendida progressione. Controllo del corpo. Appoggia. Il canestro del nuovo più 11. Tanto Tognazzi va vicinissimo alla pala persa. Questa volta recuperiamo il pallone. Una palla di Guido. Molto distratto in questa occasione. Finalmente recupera. Vediamo questa non la può sbagliare e non la sbaglia. Difese in squadre molto allungate. Tanto si prepara l'esordio di Vito Salcomandi acclamato dal pubblico. Cassa 98. Vorremmo forse spendere un fallo per farlo entrare in campo. Ancora Mucci da tre punti. Non va. Fallo di Francesco Antonielli. Forse non l'ha fatto per far entrare Vito. Perché il suo aveva preso il ribalzo offensivo. Proprio Francesco Antonielli. A lasciare il posto all'esordio stagionale di Vito Salcomandi. Che porterà probabilmente le paste. Assegno il primo libro di Furfaro che riavvicina i suoi almeno 12 a 47 secondi alla fine. Partita in ghiaccio. Vito si fa proprio prendere il ribalzo. Però conquista il suo primo ribalzo di questa DNG. Fallo di Furfaro su Lorenzo Righetti. Vediamo se Salcomandi andrà a segno anche con due punti. Il tiro palla molto costruttivo della Leomatic. trova poi una penetrazione con Lorenzo Righetti. Poteva scaricare come ha tentato di fare per Salcomandi. La palla però non è arrivata a lungo Perugino. Providenza. Fuora lo scarico per Salcomandi. che però si fa stoppare il suo primo tiro in DNG. Preferisce non giocare. Finisce così questa stagione casalinga della Leomatic. che ricordiamo la prossima sarà impegnata in casa della Stella Azzurra. Partita dal risultato chiaramente chiuso quello. Intanto si sperano i risultati degli altri campi per vedere se la Leomatic è riuscita a passare in questa fase interzonale della DNG. tanto un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta streaming. Il punteggio finale. Leomatic Perugia 79. Benzana Siena 67. Grazie.